Il Signore ci conceda di andare sulle strade dello Spirito senza compromessi e senza rigidità, con la libertà di annunciare Gesù Cristo come Lui è venuto, in carne. È uno dei passaggi chiave dell'omelia pronunciata da Papa Francesco durante la Missa celebrata a Santa Marta. Partendo dall'incontro di Nicodemo con Gesù e dalla testimonianza di Pietro e Giovanni dopo la guarigione dello storpio, il Pontefice ha rimarcato la concretezza della nostra fede e che assecondare lo Spirito vuol dire seguirne la voce, pur senza sapere dove ci condurrà. Dalle volte noi dimentichiamo che la nostra fede è concreta. Il verbo si è fatto carne, non si è fatto idea, si è fatto carne. E quando recitiamo il credo, diciamo tutte cose concrete. concrete, credo in Dio Padre che ha fatto il cielo e la terra, credo in Gesù Cristo che è nato, che è morto. Sono tutte cose concrete. Il credo nostro non dice io credo che devo fare questo, che devo fare questo, che devo fare questo, o che la cosa sono per questo. sono cose concrete, la concretezza della fede che porta alla franchezza, alla testimonianza, fino al martirio, che è contro i compromessi o la idealizzazione della fede. Grazie. 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 Grazie.